buongiorno ragazze e buona domenica come state tutto bene allora io accingo a praticamente sto facendo areggiare il letto perché voglio cambiare le lenzuola oggi è un po tardino e oggi vorrei fare la pasta al forno adesso mi metto e mi preparo praticamente il sugo con le braciole alla salentina vi faccio vedere come le faccio io adesso vi appoggio al cavalletto e mi sistemo queste due braciolette bene ragazze qui stavo preparando praticamente gli involtini involtini salentini quelli che noi facciamo e che mettiamo il sugo e stavo preparando solo quattro perché al mio compagno non piacciono perché c'è il formaggio e altre cose non gli piacciono e cose di pieno me ne sono fatta quattro solamente per me gli ho divisi in quattro gli ho messo in ogni involtino un po di sale un po di pepe un po di formaggio e del prezzemolo e li ho chiusi con degli pecchini praticamente e niente e stavo già preparando per il pranzo infatti ho tolto l'audio perché non si capiva niente perché c'era tv accesa e allora non avreste capito quello che mettevo comunque adesso vi lascio il video e vi mando un bacio iscriviti al canale 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 iscriviti gli involtini qui mi stavo cimentando a preparare la mia pasta al forno praticamente avevo messo il sugo un po di sugo nella pirofila stavo buttando la pasta che gli ho dato una mezza cottura poi ho messo un po di formaggio della mozzarella e del prosciutto cotto tagliato a pezzettini e subito dopo ho messo un altro poco di sugo e gli ho buttato la besciamella e l'ho messa subito in forno non mi dite quanta cottura gli ho dato perché io ad aggordare ogni tanto l'ho consultata con una torcchetta per vedere se il rigatone se la pasta praticamente era cotta adesso vi lascio il video spero che la ricetta vi piaccia vi mando un bacio ciao Grazie a tutti. 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 Buon pranzo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.